a tutti un buongiorno benvenuti insomma qui c'è sempre un'atmosfera molto raccolta però è giorno e quindi davvero ben incontrati a tutti voi nello spazio delle OGR oggi parleremo di innovazione e lo faremo in una maniera apparentemente difensiva il tema di questo incontro è la cyber security che è in realtà un tassello fondamentale di questa transizione digitale che sta attraversando in maniera trasversale tutti i settori economici e naturalmente anche il terzo settore insomma ed è un passaggio chiave anche perché le nostre imprese e i nostri enti del terzo settore diventino resilienti quindi davvero è un tema che ci sta molto a cuore vi do dei dati che conoscete sicuramente meglio di me il terzo settore in Italia vale circa 84 miliardi conta 400 mila enti oltre un milione e mezzo di addetti e dà un contributo essenziale alla crescita e alla tenuta sociale insomma dell'intero paese in una fase come quella che stiamo attraversando in cui il cyber crimine è una minaccia in ascesa insomma un fenomeno che sta crescendo lo vedremo poi con i numeri durante il nostro incontro e rappresenta dunque una minaccia concreta per le organizzazioni complesse o meno complesse insomma il terzo settore da questo punto di vista è sicuramente più esposto di altri a questi rischi ed è per questo insomma che siamo qui oggi perché vogliamo presentare questa iniziativa che è un'iniziativa un po' campione insomma della fondazione CRT che guarda proprio alla sicurezza e alla stabilità delle vostre realtà e del vostro lavoro insomma quotidiano a voi tutti è destinata questa misura di sostegno che spiegheremo durante il lavoro di questa mattinata non voglio anticipare troppo vi dico soltanto però che le misure e gli aiuti che la fondazione CRT ha elaborato e metterà a disposizione gratuitamente dei vostri enti potranno essere in qualche maniera scaricati direttamente durante un click day segnatevelo il 6 dicembre prossimo non voglio però anticipare troppo questi dati perché vorrei che salisse sul palco Andrea Varese segretario generale della fondazione CRT per dirci qualcosa in più allora segretario siete i primi a fare una cosa di questo genere poi i primi a pensare al terzo settore che non è quello che verrebbe subito il terzo settore onestamente non siamo i primi che ci pensano per fortuna perché esisteva ben prima di noi e continuerà a esserci dopo di noi non è la prima cosa che viene in mente quando uno pensa alla cyber security il terzo settore invece ormai il problema della cyber security credo che sia pervasivo su tutta la popolazione ognuno di noi sia come individuo sia sul posto di lavoro o nelle attività appunto del terzo settore il terzo settore noi non ci pensiamo ma oltre a essere fondamentale per il paese è anche un repository di dati sensibili che non sono soltanto quelli dei volontari o delle persone che ci lavorano ma anche molto spesso delle persone che ottengono i servizi di questo stavamo pensando parlando stamattina con un collega uno dice un'associazione calcistica ha i dati degli iscritti, il numero delle carte di identità molto spesso il codice fiscale, i dati dei pagamenti delle quote tutte informazioni che nelle mani sbagliate possono essere molto pericolose e possono comunque creare un problema da un punto di vista legale a chi dovrebbe gestire questi dati perché comunque abbiamo una direttiva europea per cui abbiamo pensato anche in collaborazione con i veri esperti in questo settore che è la polizia di stato quindi la polizia postale di mettere a disposizione del terzo settore degli strumenti pratici, pragmatici per poter non risolvere il problema della cyber security perché il problema della cyber security è un problema in cui l'asticella si sposterà sempre in continuazione ma per iniziare a gestirlo con consapevolezza che è la prima diciamo così il primo step per poter gestire appunto il problema essere consapevoli che tutti noi siamo rischi ci dice qualcosa su come si svolgerà questo click day ci vuole anticipare qualcosa o lasciamo le comunicazioni di servizio no, lasciamo le comunicazioni di servizio anche se la nostra aspettativa sarebbe di coprire almeno 420 del primo settore ed eventualmente stiamo valutando nel caso in cui come dire il successo di critiche di pubblico sia elevato di aumentare ancora le risorse a disposizione perché questo credo che sia un problema per tutti ed è un problema che tutti insieme dobbiamo cercare non di risolvere ma quantomeno di minimizzare il rischio vorrei farle dire un'altra cosa l'aiuto è duplice, giusto? c'è una parte... formazione e diciamo così formazioni, licenze, software e hardware quindi perché molto spesso il terzo settore giustamente prioritizza gli interventi che sono funzionali al proprio scopo e ci si dimentica o non si è in grado di proteggere adeguatamente la propria infrastruttura perché non si hanno i mezzi, perché non si hanno le competenze perché i mezzi sono costosi e la coperta è corta per cui abbiamo deciso di fare questo intervento che copra i vari aspetti benissimo io la lascio sul palco a raccontarci qualcos'altro ma sarò brevissimo bene, a lei l'unica cosa da dire sul palco ancora è ringraziare veramente di cuore i relatori di questa mattina il dottor Francesco Saberio Bacco che è responsabile del nucleo operativo di sicurezza cibernetica della Polizia Postale del Piemonte della Valla Vosta l'avvocato Luisa Di Giacomo che è presidente e founder di Cyber Academy quindi portavoce del Centro Nazionale Anticiber Bullismo che è un altro aspetto da tenere presente Nino D'Amico che è il Chief Technology Officer di HRC che è la società con cui siamo in parnet partner a riato, scusatemi per la gola e per la voce e ovviamente Filomena Greco che ha iniziato già brillantemente a coordinare e a moderare l'evento di oggi noi crediamo che questa sia un'iniziativa importante ovviamente qualora dovesse esserci un buon riscontro la proseguiremo poi negli anni successivi perché come dicevo questo non è un problema che si risolve con un intervento one-off ma è una gara continua ad aggiornare le proprie capacità e la propria infrastruttura per tener conto di un mondo che purtroppo a volte ha anche degli aspetti negativi dalla digitalizzazione con questo direi mi taccio e credo che sia più produttivo passare all'inizio dell'evento buona giornata a tutti e ancora una volta benvenuti a tutti in questo fantastico edificio in questo momento un po' buietto ma non l'abbiamo... è raccolto è raccolto è raccolto ma vedo che oltre ad essere raccolto è anche pieno quindi ringrazio tutti per l'interesse e la partecipazione buona giornata grazie davvero dottor Varese grazie a lei dell'ospitalità e allora per capire di quale genere di fenomeno stiamo parlando quali sono i rischi quali sono i danni potenziali bisogna guardare sicuramente ai numeri e lo facciamo con Francesco Bacco l'ho anticipato insomma il segretario Varese responsabile del nucleo operativo sicurezza cibernetica di Torino e commissario capo della polizia di Stato in particolare nel centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche perché esistono delle macro strutture che si stanno occupando di queste questioni l'ascolto prego buongiorno a tutti inizio anzitutto con il ringraziare la fondazione CRT per aver pensato a un evento di ampia portata e per aver pensato soprattutto di coinvolgere la polizia di Stato e la polizia postale la presenza di un pubblico così numeroso oggi e diciamo la presenza anche di relatori che hanno estrazione professionale eterogenea dimostra quanto il problema della cyber security e in generale del cyber crime sia trasversale sia ampio e sia vicino riguarda molto da vicino ciascuno di noi pensiamo non soltanto quindi alle grandi infrastrutture critiche pensiamo non soltanto alle grandi aziende ma entriamo nel piccolo entriamo nella nostra vita quotidiana e in particolare guardiamo alla persona digitale guardiamo all'ecosistema digitale che ci circonda il trend degli attacchi informatici negli ultimi anni è sicuramente un trend in crescita si tratta di una crescita diciamo più che proporzionale che non soltanto attiene le dimensioni quantitative del fenomeno ma riguarda in particolare le tecniche riguarda le modalità con cui gli attacchi informatici vengono oggi realizzati io ho la possibilità diciamo di osservare questo fenomeno da possiamo dire un osservatorio privilegiato che è appunto quello del centro operativo sicurezza cibernetica di Torino sono uno dei funzionari che si occupa appunto di investigazioni telematiche di indagini forensi e a livello nazionale la polizia postale ha diversi centri diversi nuclei che si occupano chiaramente nelle regioni di competenza del cybercrime quello che si evince dal confronto col cittadino dal confronto con la popolazione in materia di cybercrime è che la superficie di attacco diciamo si è di molto estesa si è di molto estesa perché pensiamo ciascuno di noi nella quotidianità gestisce caselle di posta elettronica gestisce account riferibili a social network gestisce anche degli spazi cloud dove i nostri dati vengono archiviati vengono immagazzinati anche per un lungo periodo quello che può accadere nella gestione continuativa nel tempo di questi dati è che questa esposizione venga in un dato momento storico compromessa appunto a seguito di quello che è un attacco informatico ora io amo diciamo guardare e descrivere soprattutto gli attacchi informatici parlando di quella che è la prospettiva sociale quella che è la prospettiva preliminare ad un attacco informatico e mi piace citare diciamo due libri che sono due libri di una persona che diciamo ha partecipato e realizzato a volte direttamente gli attacchi informatici Kevin Mitnick e poi il libro di un filosofo Luciano Floridi che affronta il tema del digitale a 360 gradi con diverse monografie tra cui appunto quella che vedete in slide della quarta rivoluzione i testi di Mitnick sono i testi tra virgolette di un addetto ai lavori una persona che ha fatto attività di hacking che ha avuto anche delle conseguenze diciamo penali per le attività di hackeraggio che aveva posto in essere che poi ha raccontato appunto in delle monografie quello che aveva posto in essere e in quel libro che vedete in slide l'arte dell'hacking e in un altro testo che si chiama l'arte dell'inganno lui spiega come la maggior parte degli attacchi informatici partono da un'analisi sociale del target cioè un'analisi di quelle che sono le vulnerabilità umane della persona che si intende appunto attaccare la riflessione invece chiaramente di taglio più ampio di taglio più filosofico che fa Floridi è quanto le ICT quanto le tecnologie di comunicazione oggi entrano in modo pervasivo all'interno della nostra quotidianità all'interno anche dei semplici gesti che compiamo ogni giorno pensiamo pagare attraverso un'app un servizio prenotare un biglietto aereo attraverso appunto un sito web gestire la propria identità digitale attraverso gli strumenti attraverso le app che ci vengono messe a disposizione attraverso i vari play store il lavoro della polizia postale è molto trasversale qui vedete una sintesi diciamo abbastanza compensata di quello che è la nostra area di applicazione vedete il CNCPO è il centro che si occupa di tutelare i minori quindi di guardare quella parte, quella porzione del cybercrime che attiene appunto i minori e pensate ai fenomeni che riguardano da vicino i ragazzi come per esempio i casi di cyberbullismo come per esempio le social challenge e tutto quello che riguarda la tutela dell'immagine del minore online una tutela che chiaramente è molto più sensibile molto più anche difficile da porre in essere perché i minori oggi vivono in maniera estremamente correlata la propria quotidianità con i social network condividendo molto appunto della loro anche intimità poi vedete c'è un ampio settore che è dedicato appunto al contrasto delle ferrodi informatiche e questa porzione del cybercrime posso dire è una delle porzioni più ampie perché le truffe che vengono realizzate attraverso tecniche informatiche riguardano molto da vicino ciascuno di noi e pensate alle truffe classiche da phishing oppure da smishing attraverso messaggi telefonici pensate a quanto viene realizzato in maniera illecita violando un account relativo ad un non banking e poi vedete nella parte centrale c'è una struttura che è il KNIPIC che è il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche che guarda invece la parte più complessa la parte tra virgolette un po' più diciamo elevata di quegli attacchi informatici più strutturati che invece riguardano appunto le infrastrutture critiche che riguardano quelle aziende che gestiscono dei servizi essenziali come possono essere per esempio il servizio energetico i trasporti eccetera è un'attività quella che il KNIPIC svolge non soltanto di gestione dell'emergenza nell'immediato ma anche di monitoraggio e di prevenzione nel mio intervento cercherò di veicolare molto questo messaggio quello della prevenzione tecnica quella della prevenzione informatica che ha un suo naturale complemento con quella che è la gestione quotidiana della propria attività lavorativa in maniera attenta, in maniera accorta anche quando magari i naturali livelli di stress i ritmi di lavoro possono portarci a delle naturali distrazioni a delle naturali disattenzioni ecco l'ingegneria sociale che è il grande sfondo che sta dietro ogni attacchi informatici ci fa leva su delle vulnerabilità su delle debolezze che sono principalmente umane la fretta di consegnare per esempio un lavoro oppure la necessità di adempiere a un pagamento che sembra essere indifferibile oppure molto spesso la prospettata e falsa problematica di sicurezza perché cito questo? perché molti attacchi informatici iniziano prospettando alla vittima prospettando al target un falso problema di sicurezza è in corso un accesso abusivo alla tua casella di posta elettronica clicca qui per ripristinarla oppure pensiamo allo smishing al fenomeno degli sms truffaldini c'è qualcuno che ha tentato di fare questa operazione dal tuo banking clicca qui vai su questa pagina per risolvere e bloccare l'operazione molti attacchi informatici fanno leva sulla sicurezza e sulla costruzione artefatta di un allarme di una problematica costruita ad arte ovviamente in maniera fittizia per indurre il destinatario per indurre il target a compiere delle azioni che normalmente non realizzerebbe mai pensiamo alla condivisione della propria password relativa all'on banking al telefono con uno sconosciuto oppure peggio la condivisione di una password di tipo OTP cioè quelle one time password quelle password temporanee arrivata via sms con uno sconosciuto che al telefono ci dice che c'è un problema di sicurezza sul nostro conto corrente ecco l'attività del KNIPI che è attività preventiva in questo senso cioè veicolare al pubblico il messaggio che gli attaccanti cioè chi sta dietro la preparazione di attacco informatico fa uno studio delle vulnerabilità in primis umane il numero come dicevo prima è in crescita qui c'è una prospettiva basata su un arco di tempo triennale fino al 2022 vedete nell'anno 2022 ci sono stati 13.099 attacchi informatici attacchi rilevati dalle infrastrutture deputate a contrastarli è un numero che chiaramente è la collezione di quelle informazioni che arrivano dalle aziende arrivano dalle società dalle infrastrutture che vengono colpite non pensiamo soltanto appunto come dicevo prima alle grandi aziende alle grandi infrastrutture critiche ma anche alle piccole e medie imprese anche agli enti che operano nell'ambito del terzo settore perché questo? perché l'attacco informatico deve essere visto nella sua circolarità nella sua struttura addomino nel momento in cui colpisco un soggetto anche piccolo come può essere una piccola azienda o un piccolo una piccola srl un piccolo artigiano all'interno del territorio quell'attacco può essere il punto di inizio per arrivare magari a un soggetto più grande per arrivare a una persona che ha degli incarichi che ha delle responsabilità più elevate nell'ambito di un contesto di un altro contesto aziendale quindi guardate alla posizione che assumiamo anche rispetto agli altri nell'ambito del mercato nell'ambito dei settori sociali nell'ambito dei servizi alla persona dei servizi istituzionali tutte le informazioni che noi gestiamo archiviamo trattiamo hanno una storia hanno un flusso attraverso banche dati attraverso spazi web nel cloud che molto spesso è incontrollato e molto spesso rimane oscuro quindi il consiglio è la direttiva di massima quale può essere nel momento in cui si gestiscono queste informazioni essere sempre attenti alle regole di tra virgolette cyberigiene valutare quali dati effettivamente mi servono quali dati per legge devo tenere quali dati per legge devo cancellare e soprattutto e questo è un punto critico nel momento in cui si affronta l'argomento degli attacchi informatici nel caso di attacco a mio danno c'è un sistema di recupero di quei dati c'è un sistema di backup di quei dati che mi consente di riprendere poi l'attività qualsiasi essa sia e parlo non soltanto di avere un backup cioè avere un posto dove i dati sono collocati come riserva ma essere in grado poi di reimplementare quel backup in modo tale che la società che l'azienda possa ricominciare possa ripartire appunto con le attività ordinarie mi rendo conto che non tutte quante le società tutti quanti i soggetti produttivi hanno al loro interno una struttura che può occuparsi in maniera esclusiva di cyber security sarebbe un'utopia e a livello economico sarebbe molto dispendioso ed è per questo che all'interno di quelle realtà più piccole diventa ancora più critica diventa ancora più protagonista il singolo con le regole appunto di in generale si dice cyberigiene che cosa si intende per cyberigiene significa anzitutto costruzione è banale dirlo però molto spesso sembra un concetto quasi dimenticato costruzione di password che siano molto articolate che prevedano per esempio dei simboli dei caratteri alfanumerici che non siano soprattutto riconducibili alla propria sfera intima perché uno dei modi più semplici per violare un account per esempio di posta elettronica è il cosiddetto nel gergo si dice brute force attack cioè attacco di forza bruta lo spiego in parole povere e semplificando e banalizzando si tratta di un attacco in serie che viene rivolto verso la casella di posta elettronica provando in maniera multipla più password pensate decine di migliaia di password fino a che non si arriva alla password giusta per entrare appunto dentro l'account ora è chiaro che dalla parte dell'hacker dalla parte del cosiddetto attaccante le prime password che verranno provate che verranno tentate sono quelle che riguardano la persona colpita il suo nome il cognome la sua data di nascita il nome del cagnolino oppure qualcosa che riguarda la sua sfera lavorativa poi via via passando alle password più complicate se non si riesce con le prime come costruire questa tipologia di attacco è molto semplice pensate a quante informazioni esponiamo quotidianamente all'interno dei social network ed è una cosa che viene svolta da molti anche per lavoro con delle ricadute economiche anche con dei profitti è una cosa che viene fatta per svago ma è un'attività che deve essere non dico limitata ma quantomeno moderata e vigilata perché ogni informazione che viene rilasciata ai social network rappresenta un punto di esposizione per la nostra persona e quell'informazione potrebbe essere poi collezionata con altri dati che in qualche maniera stavano già circolando all'interno del web pensate per esempio al nostro curriculum vitae o alla fotocopia di un nostro documento di identità oppure alle nostre immagini personali che ci ritraggono nella vita quotidiana con i nostri cari queste informazioni di per sé potrebbero essere diciamo interpretate come di scarso valore se viste separate l'una dall'altra ma collezionate aggregate da una persona che è intenzionata diciamo a sfruttare una nostra vulnerabilità hanno un grande valore hanno un grande peso pertanto è opportuno gestire con moderazione la propria esposizione web e soprattutto valutare qual è il fine dell'esposizione se viene fatta per scopi lavorativi se viene fatta per scopi di svago se opportuno o meno questo discorso chiaramente vale in maniera molto più fondata e molto più sensibile per i minori l'attività preventiva che svolgiamo passa attraverso vari punti di forza uno di questi punti di forza è la diramazione di alert che servono ad innalzare il livello di consapevolezza dei destinatari sulle minacce informatiche più concrete più attuali in un determinato momento storico e quindi aiutano le società aiutano i singoli a capire che in un determinato periodo per esempio è molto forte una campagna di phishing a tema bancario oppure in un determinato periodo storico si è scoperto che un sistema operativo ha un determinato bug ha una determinata vulnerabilità che deve essere risolta che deve essere colmata la funzione dell'alert è quindi indurre all'interno del destinatario diciamo lo scrupolo la premura di adeguare il sistema di rete per evitare appunto di cadere di essere vittima di un attacco molto spesso si sente parlare all'interno sia delle notizie stampa sia su riviste specialistiche dei cosiddetti zero dei è una espressione che va ad indicare diciamo quegli attacchi informatici che sfruttano una vulnerabilità che nota soltanto a diciamo pochi ricercatori che l'hanno scoperta ricercatori ovviamente hacker che sono intenzionati poi a sfruttare quella vulnerabilità per un attacco informatico è chiaro che sapere in anticipo che c'è una vulnerabilità che ci può essere quindi uno zero dei aiuta l'impresa a proteggersi a tutelarsi con largo anticipo immaginiamo questo panorama come estremamente trasnazionale come estremamente trasversale ai vari stati perché il crimine informatico fa ricorso non soltanto a risorse umane ma fa ricorso anche a risorse hardware a server che non necessariamente sono dislocati all'interno del territorio nazionale italiano molto spesso gli apparati che vengono utilizzati per fare degli attacchi sono sparsi un po' per tutto il mondo e è frequente quello che accade diciamo il fenomeno della vendita anche di servizi di attacco informatico si parla del cosiddetto crime as a service ossia quella sorta di mercato quella sorta di market oscuro anche di malware di vulnerabilità informatiche che fa sì che sia estremamente semplice per qualcuno che vuole realizzare un attacco informatico acquistare per esempio un virus acquistare una vulnerabilità pertanto dal punto di vista delle imprese dal punto di vista anche del terzo settore è bene sapere che chi attacca non necessariamente ha un'elevata competenza informatica può essere anche una persona un soggetto che non ha alcuna competenza informatica ma si rivolge a un mercato di soggetti che invece sono a livello passatemi il termine tra virgolette professionale deputati a svolgere appunto attacchi informatici e sono strutturati come delle vere proprie aziende come delle vere e proprie imprese da parte nostra ma soprattutto da parte dei soggetti potenziali destinatari di un attacco informatico è bene comprendere che gli strumenti di difesa sono estremamente articolati e sono estremamente come posso dire eterogenei i primissimi strumenti di difesa riguardano la persona la cosiddetta cyberigiene di cui parlavo prima e l'approccio che bisogna avere nel momento in cui vengono gestiti i dati nel momento in cui vengono gestite le attività con il web è quello adattivo cioè capire che la minaccia che si è verificata oggi o che potrebbe verificarsi oggi è sicuramente diversa da quella che da qui a un mese potrebbe realizzarsi nel corso di pochi mesi le minacce informatiche cambiano in maniera repentina quindi il lavoro di prevenzione che viene fatto dai singoli deve necessariamente mutare necessariamente adeguarsi pertanto l'approccio è quello proattivo cioè rendersi conto che dall'altra parte ci sono soggetti attaccanti hacker che sanno come vengono predisposte le difese si parla moltissimo di resilienza cioè nel caso in cui ci sia o ci si dovesse verificare insomma un attacco informatico quali sono le mie capacità di ripresa quali risorse ho all'interno della mia struttura per riprendere l'operatività è chiaro che in società di grandi dimensioni ci sono articolazioni organismi interni come possono essere i CISO i SOC gli team manager che a livello tecnico gestiscono la minaccia dal suo manifestarsi sino al suo esaurirsi ciò non significa tuttavia che in assenza di tali figure la piccola impresa il piccolo ente debba ritenersi come posso dire assolto dalla minaccia informatica è opportuno che si confronti magari con soggetti terzi con società terze che fanno cyber security valutando anche un piano di intervento nel caso di attacco informatico o soprattutto facendo per esempio delle simulazioni sono molto frequenti nei contesti aziendali le cosiddette simulazioni di phishing ossia in maniera segreta organizzo come direzione aziendale una campagna falsa ovviamente di mail verso i miei dipendenti a tema bancario a tema servizi diciamo una campagna di qualsiasi stampo per vedere chi dei miei dipendenti chi dei miei collaboratori cade nel tranello e quindi oltre ad aprire la mail magari va naviga sul link indicato all'interno della mail e compila dei format che sono sostanzialmente finalizzati a sottrare dati ecco posso dire negli ultimi anni le aziende che con cui ho avuto modo di confrontarmi che hanno fatto queste simulazioni di phishing hanno dato dei risultati abbastanza positivi e quindi percentuali basse magari inferiori al 10 o al 5 per cento il punto qual è è che anche nel caso di una campagna vera di phishing anche l'1% anche una sola persona che cade nell'inganno espone a cascata tutte quante le altre espone il board aziendale espone la società pertanto l'obiettivo deve essere quello del rischio zero cioè si deve quantomeno tendere a quello cercando di sensibilizzare le persone che sono cadute vittime del phishing a avere un atteggiamento chiaramente più accorto nelle mail successive uno dei phishing più insidiosi è quello a tema sicurezza molto spesso vengono diramate delle mail dove si espone diciamo un possibile accesso abusivo alla casella di poste elettroniche quindi pertanto per rimediare per interrompere quell'accesso illecito bisogna inserire immediatamente le credenziali oppure ancora un altro degli inganni frequenti è quello di un presunto aggiornamento del servizio e quindi molto spesso si viene rimandati su dei link dai quali scaricare magari dei programmi delle app che non sono verificate che non sono certificate e hanno delle funzioni hanno diciamo delle sequenze di codice che sono nocive è molto importante quindi nell'ambito aziendale nell'ambito anche del piccolo ufficio del piccolo del piccolo ente sapere quali software utilizzare quali programmi utilizzare sapere che siano certificati che siano soprattutto aggiornati nel tempo per il discorso che facevo prima per la naturale evolutività della minaccia informatica e per porre in essere quello che è l'approccio proattivo adattivo descritto nel caso di società più complesse dicevo ci sono figure deputate a gestire l'incidente cibernetico e figure diverse deputate a gestire il cosiddetto business continuity plan cioè capire come nel breve periodo nonostante l'attacco informatico posso riprendere i miei servizi questa cosa vale anche per i piccolienti perché i piccolienti si rivolgono comunque a una collettività di soggetti che hanno bisogno di quei servizi che hanno anche urgenza a volte di fruire di quei servizi pertanto bisogna capire bisogna pensare come si può nel giro di sette giorni dieci giorni dell'attività ordinaria le finalità per cui un attacco informatico può essere consumato può essere realizzato sono molteplici ci sono soggetti che eseguono l'attacco semplicemente per dire ce l'ho fatta quindi quasi per vanità quasi per mostrare la propria competenza quindi il loro scopo è semplicemente quello magari di danneggiare il destinatario ci sono soggetti che invece ricevono la commissione di un attacco informatico per danneggiare la reputazione di un'altra azienda per esporre l'immagine di quell'azienda magari sul mercato oppure per far perdere a quell'azienda un vantaggio concorrenziale rispetto ad altre ci sono poi tantissimi e forse sono la maggior parte attacchi informatici che sono realizzati per finalità economica credo che molti di voi hanno sentito parlare di ransomware cioè di malware di virus con una finalità estorsiva è il problema a cui vi chiedo di porre la come posso dire la massima sensibilità la massima attenzione perché una infezione da ransomware quindi una infezione con questo tipo di malware comporta il blocco dell'operatività di una società di un ente o di una pubblica amministrazione e quindi la cifratura anche dei dati che sono contenuti all'interno dei server dell'ente colpito le attività da fare immediatamente dopo un'infezione da ransomware chiaramente sono quelle di recupero dei famosi backup di cui parlavamo prima reimplementazione dei dati per garantire il ripristino dell'attività sicuramente mai mai pagare le richieste di riscatto che arrivano da chi ha commissionato da chi ha realizzato l'attacco perché questo non soltanto per una ragione di carattere etico di carattere giuridico questo è importante ma anche per una questione di carattere pratico chi paga queste richieste di riscatto espone se stesso ma anche l'azienda che rappresenta al rischio che arrivino in seguito altre tipologie di attacco simile e altre richieste di riscatto perché dall'altra parte l'attaccante ha compreso che c'è diciamo la disponibilità a pagare che c'è un patrimonio da aggredire Chiaramente il fenomeno esattamente speculare a quello del ransomware è quello del data breach molti di voi ne avranno sentito parlare cioè le sfiltrazioni di dati quindi non soltanto il blocco dell'operatività non soltanto la cifratura ma anche la sottrazione dei dati perché a un hacker perché a un cybercriminale dovrebbe interessare la sottrazione dei dati per esempio per danneggiare il soggetto l'ente dal quale i dati sono stati sottratti pubblicandoli in rete dimostrando che quell'ente non è compliance non è affidabile non è diciamo in grado di tenere in sicurezza i dati dei propri clienti oppure perché quei dati rappresentano un valore in sé pensate che valore possono avere dei dati sanitari oppure dei dati bancari oppure pensate a che valore possono avere dei dati di progetto dei brevetti e quindi il know-how aziendale che viene sottratto da una società può essere inevitabilmente compromesso nel momento in cui viene rivelato a dei competitor quindi in genere la cosa importante da fare nel momento in cui ci si è resi conto che si è subito un data breach è adempiere diciamo quella filiera di obblighi normativi che riguardano la privacy per esempio la notifica al garante uno di questi per mettere in guardia anche gli interessati del fatto che i dati sono stati sottratti inevitabilmente staranno circolando molto spesso chi effettua un data breach rivendica anche l'averlo fatto oppure sfrutta quel patrimonio di dati che ha recuperato per fare un'altra richiesta di carattere estorsivo in che termini ti faccio vedere che ho rubato i tuoi dati quindi ne ho la disponibilità ti mostro per esempio un campione e ti chiedo del denaro affinché quei dati non vengano pubblicati ovviamente il modulo comportamentale in questo caso è del tutto speculare similare al primo cioè quello del ransomware mai pagare la richiesta di riscatto perché ci si espone a richieste progressive oppure ci si espone ad ulteriori attacchi informatici in genere si parla di double extortion cioè doppia estorsione e non è infrequente appunto che un data breach sia poi collezionato con altri data breach per fornire un prospetto completo magari dell'identità di una persona che si vuole colpire per esempio pensiamo a un manager pensiamo a un segretario pensiamo a una persona che gestisce dei patrimoni avere le informazioni personali di questo soggetto può rappresentare un valore per svolgere un altro attacco informatico quindi vedete la difesa va intesa in maniera proattiva non soltanto sistemi tradizionali ne sentiamo parlare tutti i giorni software sicuri organizzazione dei dati in maniera logica in maniera razionale utilizzare gli antivirus utilizzare delle password complesse come dicevo prima aggiornare i sistemi operativi affidarsi a delle società che fanno cyber sicurezza che siano accreditate e soprattutto fare delle manutenzioni periodiche ma anche sistemi diciamo più avanzati è un argomento molto ampio quello della cosiddetta threat intelligence in ambito informatico le aziende più strutturate e più grandi già lo fanno nella quotidianità ma è un discorso che ritengo debba avvicinarsi anche ai piccoli soggetti produttivi ai piccoli enti in che termine con quelle risorse in primis le risorse umane cioè capire interpretare dall'altro lato quando c'è un inganno in corso quando c'è il rischio appunto che ci sia una tecnica di ingegneria sociale in corso volta a sottrare dei dati a recuperare delle password o a violare i propri spazi digitali concludo spero di non essere stato troppo prolisso troppo tecnico l'ambiente di difesa nel quale ci muoviamo è molto esteso possiamo parlare di un vero e proprio ecosistema che parte chiaramente dalle grandi dalle infrastrutture enormi che gestiscono quotidianamente i servizi ma arriva sino alla persona digitale cioè arriva a tutte le nostre proiezioni virtuali che quotidianamente esponiamo nella rete che ci aiutano certamente a vivere in maniera più intelligente in maniera più razionale in maniera più smart ma ci espongono a rischi che devono essere gestiti che devono essere mitigati e se del caso anche contrastati con la competenza grazie a tutti grazie a dottor Bacco che davvero ci ha fatto fare una sessione informatica impegnativa tranti inquietante ma molto molto significativa e poi importante anche sottolineare la necessità di denunciare sempre di dare rilievo a quello che accade nelle aziende nelle strutture diciamo negli enti e adottare comportamenti individuali molto attenti siamo persone digitali impariamo a proteggerci mettiamo il cappotto la giacca non andiamo in giro senza protezione grazie grazie davvero a lei grazie a tutti per questo per questo aiuto preziosissimo passiamo nel nostro secondo intervento alle questioni più prettamente legali perché l'evoluzione digitale della nostra società dei nostri modelli di business il nostro modo di lavorare un po' deve andare di pari passo con i temi legati alla privacy sul tema della privacy siamo un pochino più sensibili un po' più allineati forse sul tema della cyber security della protezione dei sistemi delle nostre organizzazioni lo siamo forse un po' meno però ne parliamo con Luisa Di Giacomo che è presidente founder di Cyber Academy prego dottoressa si accomodi portavoce nazionale del centro nazionale anti cyberbullismo e componente anche del pool di esperti in privacy e cyber security presso la European Data Protection Board perché anche l'Europa naturalmente si occupa di questo genere di problemi devo dire che lei è anche un po' una specie di autorità sui social si mi diletto mi prendono in giro i miei amici mi dicono che faccio l'influencer eh sì perché su TikTok è molto seguita i suoi video sono molto seguiti li fa vedere i suoi ragazzi? li faccio vedere anche quando vado a fare formazione divulgazione nelle scuole mio figlio è molto fiero mi dice mia mamma fa l'influencer ogni giorno torna a casa e mi chiede come siamo messi a follower? questa è la prima domanda mia madre è un'influencer ma non mi fa stare troppo sui social ma non mi fa stare infatti ovviamente questo è il prezzo che paga grazie grazie buongiorno a tutti e grazie alla fondazione Cassa di Risparmio per questo evento fantastico sono molto contenta molto orgogliosa di essere qui wow fa un effetto diverso ieri abbiamo fatto le prove la sala era vuota oggi devo dire che fa un effetto decisamente diverso mi ha già presentato la filomena per cui non starò più a tediarvi con quello che è il mio curriculum mi limiterò a dirvi che io mi definisco cyber avvocato e che cosa c'entra la cyber security con la legge con il diritto con l'avvocato mi dispiace dirvelo ma è arrivata la parte noiosa quindi è arrivata quella della privacy purtroppo quando si parla di cyber security bisogna parlare anche di privacy però io guardando questa foto che come sempre quando si fanno le presentazioni si cerca di mettere la propria foto migliore non sembro neanche io e io mi sono molto così sentita cioè no cioè un po' no vabbè però ci ho provato è stato questo momento di però in effetti quello che faccio io esattamente come quello che fa la spia più famosa del mondo è cercare di proteggere proteggo le aziende e i miei clienti cerco di proteggere anche le persone fisiche come facendo appunto l'influencer la divulgatrice sui social però purtroppo devo dire che è tutta una questione di comunicazione quando io dico mi presento buongiorno mi chiamo Luisa Di Giacomo sono un avvocato mi occupo di privacy e quasi sempre la reazione è questa ah ma a me della privacy non importa niente tanto io non ho niente da nascondere e la reazione mia è questa primo non è vero non è vero abbiamo tutti almeno una cosa da nascondere perché se non fosse vero alcuni film che nell'ultimo periodo hanno avuto del grande successo non avrebbero avuto tutto il successo che hanno avuto e tutti noi abbiamo tre vite una vita pubblica una vita privata e una vita segreta per cui sul fatto di non avere niente da nascondere io ho qualche dubbio ma proviamo a far finta che sia così e diciamo che della privacy non ce ne importa niente la privacy purtroppo è stata banalizzata è stata ridotta alla firma in fondo a un modulo che nessuno legge per alzata di mano quanti di voi quando scaricate una app sul telefonino leggete l'informativa privacy prima di cliccare su accetto? ok non ero preparata ma tanto vado sul sicuro purtroppo non la legge così nessuno sono stati fatti degli esperimenti divertenti a questo proposito il MIT il Massachusetts Institute of Technology ha fatto un esperimento proprio relativo alla presentazione di informative privacy in cui c'era scritto di tutto del tipo scaricando questa app accetto di vendere il mio figlio primogenito all'infanzo no no non sto scherzando era ovviamente fatta per vedere e la percentuale di firma è stata un numero molto vicino al 100% questo perché ripeto la privacy è stata estremamente banalizzata e allora proviamo a cambiare approccio cercherò sgridatemi se mancherò di non parlare da questo momento più di privacy ma parlare di protezione dei dati protezione dei dati e privacy sono due facce della stessa medaglia il regolamento europeo che tutti voi conoscete come GDPR che ci ha dato gioie e dolori forse a voi più dolori a me più gioie perché mi devo pagare il mutuo alla fine di tutti i mesi e quindi insomma meno male che esiste ma non parla di privacy il regolamento generale sulla protezione dei dati parla di protezione dei dati il GDPR sta per General Data Protection Regulation e quindi proviamo un po' a abbandonare la privacy poi in realtà ne potremmo parlare per delle ore ma oggi ci focalizziamo sull'aspetto della protezione dei dati e il GDPR ci dà delle indicazioni su come questi dati devono essere protetti i dati sono un bene un bene che si compra si vende si ruba come ci ha molto eloquentemente detto il commissario della polizia postale e come tale hanno un valore lo vedremo a breve qual è il valore dei dati hanno un valore che può essere quantificato da un punto di vista lecito legittimo pensiamo al modello di business di tutte le grandi industrie di tutte le grandi società della Silicon Valley Google Meta tanto per fare i nomi più grandi che cosa vendono? non vendono niente non costruiscono niente è tutto gratis YouTube è gratis Gmail è gratis la ricerca su Google è gratis Facebook è gratis Instagram è gratis eccetera quando qualcosa è gratis dovremmo però farci venire un dubbio perché chi è che ci regala qualcosa in questo mondo direi nessuno e quindi quando qualcosa è gratis vuol dire che il prodotto siamo noi cioè noi stiamo pagando quei servizi con una moneta diversa ma altrettanto preziosa i nostri dati nel 2030 Nello Soro era garante della privacy e disse una frase che rimase storica per tutti noi addetti ai lavori scusate ho detto privacy non avrei dovuto dopo metto l'euro di multa disse Google con tutti i dati che possiede ha più potere di una dittatura sono passati vent'anni da questa frase e in questi vent'anni abbiamo assistito un po' a una vera e propria rivoluzione industriale tecnologica soprattutto negli ultimi quattro anni a partire dal covid e dal lockdown in avanti e questo è quanto mai vero nel 2016 è arrivato il regolamento generale per la protezione dei dati personali che oggi è già considerato una normativa un po' vecchia nonostante sia una normativa estremamente all'avanguardia rispetto a quanto viene indicato per esempio in altri paesi in Cina e Stati Uniti e i principi generali sono questi accountability data protection by design e data protection by default ma in pratica che cosa vogliono dire? che cosa vuol dire applicare il GDPR nelle nostre aziende e nelle nostre organizzazioni? vuol dire questo sta tutto qui dentro questa è la sintesi di data protection e cyber security e per tornare a James Bond che vi ho indicato prima questa è una frase che guardando questo film di James Bond che è uno dei miei preferiti mi è piaciuta tantissimo e la trovo molto pertinente faccio più danni io davanti al mio computer di quanti ne fai tu cioè tu 007 sul campo e questa cosa noi la vediamo la stiamo vedendo tutti i giorni quando è scoppiata la guerra purtroppo ormai più di un anno fa in Ucraina si è parlato subito di guerra ibrida la guerra che si combatte sul campo con i missili e le bombe eccetera e la guerra che si combatte nel cyberspazio nel cybercrime perché? perché i dati hanno un valore e noi non dobbiamo pensare che siccome apparteniamo al terzo settore quindi non abbiamo scopo di lucro o comunque abbiamo uno scopo in qualche modo se vogliamo se vogliamo appunto nobile non apparteniamo non siamo nel circuito per fare soldi allora noi non abbiamo obblighi questo non è assolutamente vero chiunque tratti dati all'interno della propria organizzazione lavorativa per lavoro ha l'obbligo di adeguarsi al regolamento e di proteggere adeguatamente questi dati come lo facciamo? lo facciamo con azioni di sicurezza informatica ve ne ha parlato un po' il commissario ve ne parlerà poi il relatore che verrà dopo di me con la redazione di documenti questa purtroppo è la parte noiosa di cui mi faccio carico io con la predisposizione di adeguate procedure e lo facciamo per evitare danni economici danni reputazionali e per assicurare la nostra business continuity pensate oggi se da oggi da questo momento i vostri dati che voi avete nel vostro database nel vostro server nei vostri cloud non fossero più disponibili perdete i vostri contatti perdete i vostri l'elenco dei vostri clienti collaboratori non potete più fatturare non potete più non potete più portare avanti i vostri progetti la vostra attività si ferma è un danno economico è un danno di immagine un danno reputazionale è un danno economico a cui si aggiunge la multa del garante perché non sempre ma spesso se capita un data breach arriva poi il garante a controllare se l'accountability la data protection by design e by default erano state rispettate e quindi multe che possono arrivare fino al 2 e in alcuni casi fino al 4% del fatturato del fatturato è veramente tantissimo il problema qual è in questo caso è la mentalità si è sempre fatto così io quando entro nelle aziende a fare la consulenza che faccio mi scontro con la mentalità del abbiamo sempre fatto così ma abbiamo sempre fatto così se avessimo continuato a dire abbiamo sempre fatto così non ci sarebbe stata la rivoluzione oggi stiamo assistendo alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale non si parla d'altro io sono un avvocato siamo una delle categorie più restie al cambiamento in assoluto e per quello che quando dico che in realtà sono un cyber avvocato la gente mi guarda un po' come poi sono pure di Torino quindi figuriamoci siamo la città dell'understatement per eccellenza eppure io ho capito che il cambiamento non va contrastato va cavalcato e accompagnato e questo dovete fare anche voi perché ricordatevi che da grandi database derivano grandi responsabilità ma perché questo cybercrime vuole i nostri dati? cioè che cosa se ne fanno in realtà di tutti questi dati? questi sono i numeri del cybercrime vi ho indicato il PIL prodotto dagli Stati Uniti prima potenza economica mondiale il PIL prodotto dalla Cina seconda potenza economica mondiale anche se sta tallonando gli Stati Uniti la T sta per trillion in americano o bilioni in italiano e l'ultimo non è uno stato pirata dei Caraibi semplicemente è il cybercrime il giro d'affari del cybercrime ha una portata pari alla terza economia mondiale e si prevede che questo numero crescerà fino a 15 nel 2025 perché i dati hanno due tipi di valore un valore lecito legittimo quello che vi dicevo prima pensate a tutte le grandi aziende della Silicon Valley che non vendono niente tutto gratis eppure fatturano i fantastiliardi di Paperon de Paperoni il modello di business di tutte queste aziende è un modello di business data centrico fondato sui dati noi paghiamo con i nostri dati con la profilazione con il marketing pensate a tutte le volte che voi parlate con qualcuno di qualcosa e pochi giorni dopo stranamente nel vostro feed trovate proprio quella pubblicità di un viaggio a Palma di Mallorca oppure di un paio di calzini particolari che volevate comprarvi questo vuol dire che la teoria del complotto loro non si sa chi i poteri forti ci ascoltano no questo vuol dire semplicemente che tutti noi tutti noi siamo profilati e il web che non dimentica mai ci conosce meglio di nostra madre meglio del nostro fidanzato fidanzata o marito o moglie e poi ci sono i dati del dark web il relatore dopo di me vi spiegherà meglio la differenza tra internet di superficie deep web e dark web però per così brevemente il dark web è la parte sommersa del web quella in cui si trova di tutto da sicari a pagamento vendita di organi traffici illeciti di tutti i tipi e anche il traffico dei dati e guardate qua il valore moltiplicatelo per i miliardi di utenti attivi sul web tutti i giorni e capite come quel numero di prima può essere effettivamente credibile e assolutamente in aumento si calcola che tutti noi all'interno del nostro computer abbiamo circa 460 euro di valore in termini di contatti fotografie dati informazioni su di noi le informazioni su di noi sono potere la conoscenza è potere quando faccio formazione ai ragazzi e ai giovani ovviamente la taglio più sul discorso dei social del cyberbullismo eccetera ma gli faccio sempre questo esempio quando vuoi uscire con una ragazza o con un ragazzo cerchi di colpirlo colpirle quindi magari cerchi di prendere prima delle informazioni se le piace il sushi o magari se è vegetariana non la porti a mangiare la carne le informazioni danno potere e quindi chiaramente più è largo il numero delle informazioni e più è grande il potere prima ci è stato parlato di data breach il data breach si ha quando si verifica un incidente di sicurezza un incidente di sicurezza che può essere accidentale o volontario quando parliamo di data breach all'interno della cyber security parliamo di un attacco dall'esterno attenzione le organizzazioni si dividono solo in due quelle che sono già state attaccate e quelle che non sono state ancora attaccate ma non è un problema di se è un problema di quando perché a tutti prima o poi verrà un raffreddore nella vita almeno un raffreddore tutti l'abbiamo preso almeno una volta o una febbre nei casi più gravi i vari tipi di attacco adesso anche qua io ve li scorro velocemente perché poi so che verranno approfonditi successivamente phishing, malware e DOS il phishing ormai lo conosciamo tutti sono quelle email io tra l'altro lo faccio quando faccio formazione faccio dei finti attacchi di phishing ai miei clienti per vedere quanto sono formati quando ti arriva un email finta dell'agenzia delle entrate per esempio quando ti arriva un email della tua banca quando ti arriva un avviso di pagamento che devi pagare subito sono fanno leva su un fattore psicologico umano sulla nostra paura sulla nostra anche un po' sulle nostre debolezze sulla nostra curiosità come si contrasta il phishing formazione 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 e quello che io credo questo è un anticipo di quella che sarà la mia conclusione vedo che il tempo è tirannissimo è che bisogna ripensare tutta la strategia di cyber security mettendo al centro l'elemento umano e questo lo vediamo più che mai con l'intelligenza artificiale ci spaventa l'intelligenza artificiale perché è artificiale ma l'intelligenza artificiale è e sarà e dovrà essere sempre guidata dall'elemento umano i malware sono tutti gli attacchi di software malevoli il famoso ransomware ransom in inglese vuol dire riscatto vengono criptati tutti questo è il tipo di attacco proprio più classico vengono criptati tutti i dati e viene chiesto un riscatto se tu non hai dei backup aggiornati non ti sei preparato adeguatamente grosse alternative al pagamento del riscatto non ne hai io lo so che il commissario dice che non bisogna mai pagarle sono d'accordo però ci sono dei casi non bisogna dirlo però qualcuno deve dire e io ho deciso che oggi mi assumo questa responsabilità in cui i riscatti vengono pagati e come ci sono stati alcuni secondo me anche un po' famosi ma ovviamente per diritto alla riservatezza non lo diciamo del social engineering abbiamo già parlato sono i tipi di attacchi che sfruttano l'elemento umano la debolezza umana gli attacchi zero day voi dovete immaginare la lotta tra i criminali informatici e voi che siete buoni che state dall'altra parte quindi che vi proteggete come una continua corsa agli armamenti tra i buoni e i cattivi quindi viene rilasciato un nuovo prodotto e il nuovo prodotto è sicuro a un certo punto questo prodotto presenterà una falla di sicurezza perché è normale questo succede e allora il cybercriminale entra che cosa fa lo sviluppatore? mette un appeccio, un cerotto e quindi ripara quella falla di sicurezza e così via è tutta una corsa tra appunto buoni e cattivi indiani e cowboy decidete voi tra gli indiani e i cowboy chi sono i buoni e chi sono i cattivi questo è uno dei motivi per cui bisogna tenere per esempio i sistemi sempre aggiornati un altro tipo di attacco molto diffuso è l'attacco man in the middle quanti di voi quando va negli alberghi si attacca alla rete wifi dell'hotel? per alzata di mano? ecco, questa è una consulenza gratis che vi do così non me la dovete pagare non fatelo non fatelo non attaccatevi al wifi di Trenitalia o di... non dico per Trenitalia del treno, dell'alta velocità quando andate sui treni non attaccatevi ai wifi degli alberghi delle palestre, dei luoghi pubblici avete la vostra offerta di giga usate quella compratevi una saponetta fate quello che volete ma non vi attaccate a reti wifi pubbliche perché succede questo è spiegato benissimo dall'immagine il nostro device dovrebbe comunicare con il provider sicuro ma il criminale si mette in mezzo fa deviare la connessione il che vuol dire che tutti i dati che noi stiamo passando numeri di carta di credito se ci stiamo comprando l'imperdibile offerta del Black Friday oppure l'accesso alla posta elettronica al social network vengono raccattati dal cybercriminale con conseguenze ben immaginabili ricordiamoci il rischio zero non esiste il rischio zero non esiste in nessuna in nessuna attività umana ma esiste una buona o anche un ottimo livello di presidio di questo rischio prima o poi l'attacco di successo arriva e quando vi dicevo prima che le aziende si dividono tra quelle che hanno già subito e quelle che non hanno ancora subito voi magari avete già subito ma non lo sapete perché l'attacco non è andato a buon fine lo sappiamo quando l'attacco va a buon fine il rischio zero non esiste ma esistono tutta una serie di elementi che noi possiamo mettere in pratica per ridurre questo rischio e per ridurre anche quelle che sono le eventuali sanzioni e multe del garante il rapporto Clusy del 2022 che è stato reso noto molto recentemente ci dà dei dati abbastanza sconfortanti l'Italia tanto per avere un primato è considerata fanalino di coda perché ai noi purtroppo manca la consapevolezza l'80% degli attacchi complessivi ha un impatto molto elevato ecco l'impatto, la piramide dell'impatto è questa si va dall'attacco diciamo lieve un semplice malfunzionamento dei sistemi ad attacchi sempre più gravi si arriva a quasi la base della piramide che è un attacco che se noi non abbiamo predisposto tutte le nostre policy di disaster recovery di business continuity, di data breach cioè in sostanza se non abbiamo fatto cose per assicurare l'accountability la data protection by design e by default cioè in sostanza se non avete chiesto la consulenza di un avvocato come me potrebbero risolversi nella base nell'attacco rosso e in questo caso l'unica cosa che ci salva è questa perché non c'è proprio altro modo di salvarsi da un attacco di questo genere vado veloce perché il tempo è tiranno quindi al danno economico al danno da perdita di attività di immagine alla perdita ai danni per il ripristino del sistema e alla perdita del tempo che si ha per sistemare il sistema si aggiunge la multa del garante il calcolo del danno economico è matematica non è letteratura, non è diritto che purtroppo il diritto non ha mai un giusto o uno sbagliato se no non ci sarebbero le cause non ci sarebbero gli avvocati e i giudici e semplicemente sono dei parametri che sono stati, diciamo, studiati tra la zona in cui la società o l'organizzazione opera il settore in cui opera e il numero dei dipendenti io qui vi ho fatto una simulazione breve considerando che la probabilità annua di subire un attacco di successo è del 15% un danno medio di una piccola media impresa ma con queste dimensioni potrebbe portare a un danno di 300 mila euro io costo meno, ve lo giuro non vi chiederò mai una parte purtroppo di 300 mila euro alcuni attacchi celebri li vediamo qua, gli ultimi che ci sono stati Regione Lazio questo famosissimo è stato, credo, letto da tutti sui giornali sia l'ospedale San Giovanni di Roma, l'Enel, Geox ma abbiamo anche la Regione Abruzzo uno degli ultimi attacchi hacker ransomware molto significativi è stato quello della Regione Abruzzo hanno portato via tutti i dati dei pazienti quasi un milione di persone e soprattutto hanno bloccato l'operatività dell'azienda sanitaria ecco allora, questo per capire se non siamo ancora convinti che la data protection muova un numero di denaro spropositato che è anche il nostro, ma non è un modo di dire, il denaro dei contribuenti no, no, è il nostro delle nostre aziende, delle nostre organizzazioni pensiamo all'impatto critico che potrebbe avere il blocco di un ospedale o di un'azienda sanitaria questi, vabbè, i soggetti di un data breach qualora succeda un data breach bisogna chiaramente prendere in mano diciamo, fare delle azioni e prendere delle contromisure ma come le prendiamo queste contromisure a caso? come ci diceva il buon De André quando dovevamo contrastare Bocca di Rosa assolutamente no ci sono quelle che ci dice il GDPR un assessment iniziale per capire dove siamo e a che punto siamo un miglioramento, un'azione e un'attivazione di procedure e fare in modo di entrare in un circolo virtuoso, non vizioso in cui, vi ricordate, abbiamo sempre fatto così, siamo troppo occupati in cui tutto questo diventa parte di una routine che diventa la nostra routine aziendale quotidiana perché credetemi e adesso HRC vi spiegherà meglio ancora di me qual è l'impatto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista nostro personale purtroppo il tempo è scaduto ma se io potessi vi racconterei tante cose credo molto interessanti dal punto di vista personale nostro della protezione dei nostri dati e per finire tornando alla frase iniziale a me della privacy non importa niente perché non ho niente da nascondere beh, io credo che chi dice questo ecco, sai un po' come dire a me non importa niente della libertà di stampa perché tanto io non ho assolutamente niente da dire grazie a tutti è guai ad attaccare la libertà di stampa grazie Avvocato anche lei la giusta dose di inquietudine ci ha messo abbiamo 5 minuti di Avvocato le chiedo di rimanere qui con noi perché abbiamo 5 minuti per le domande quindi non siate timidi fatevi avanti perché sennò prendo il vostro posto le domande le faccio io quindi volentieri se avete voglia di approfittare di questo expertise che abbiamo a disposizione assolutamente fatelo sono tutti timidi oppure sono stata molto chiara? io intanto una domanda gliela faccio mi ha consolato il fatto che almeno 2 su 3 cioè il phishing e il malware la componente umana di penetrazione da pollaggine diciamo sei stato un pollo e ti sei fatto fregare è una componente ancora molto alta quindi lì è tutto un lavoro buono che si può fare questo restringe il campo ma sul serio? assolutamente allora la componente umana è fondamentale innanzitutto prevenire come sempre è la cosa migliore e quindi è meglio chiudere il recinto prima che non dopo ma in una buona strategia di cyber security l'elemento umano e formativo è fondamentale io sono convinta che bisogna ripensare tutta la cyber security da un punto di vista umano centrico cioè mettere veramente l'uomo al centro e fornirlo di nuove competenze di nuova consapevolezza di nuova formazione formazione fatta in maniera continuativa puntuale anche e anche un modo più se vogliamo igienico ed ecologico di lavorare perché come diceva il commissario giustamente prima molto spesso noi siamo di fretta e quindi è tutto urgente è tutto per ieri e quindi clicchiamo e dopo che abbiamo cliccato è troppo tardi invece cercare di lavorare meglio con maggiori competenze io cerco proprio di mi occupo tantissimo di formazione di divulgazione che tra l'altro è la cosa che mi piace di più per cui è veramente un tema importante ed è un presidio fondamentale e questo un po' ci consola insomma da questo punto di vista non facciamo i polli non ci facciamo fregare c'è qualcun altro che vuole fare una domanda? prego adesso le porteranno il microfono e il signore è qui nella fila centrale ecco è in piedi arrivano a lei buongiorno buongiorno si si la sentiamo volevo chiedere quali nuovi scenari l'intelligenza artificiale porta alla cyber security allora l'intelligenza artificiale che è un po' il tema del momento ci complica le cose ci complica le cose sì assolutamente fino a un certo punto perché in realtà i temi sono sempre cioè sono portati ad un livello diverso ma sono sempre gli stessi l'uomo al centro non esiste non dovrà esistere e l'Europa si sta dando da fare a questo proposito con il regolamento sull'intelligenza artificiale la macchina che licenzia il robot io lo so che questa è la paura e questo è veramente il tema ma l'uomo deve e deve comunque rimanere al centro l'intelligenza artificiale è uno strumento io credo che non vada demonizzata così come non va demonizzata la tecnologia lo strumento di per sé non è né buono né cattivo è buono o cattivo l'utilizzo che se ne fa e quindi l'intelligenza artificiale può essere un alleato fantastico per implementare i nostri sistemi di cyber security questo sempre con l'uomo che deve essere l'ultimo o il primo a seconda di dove si guarda l'anello della catena però siamo ancora molto dal mio punto di vista agli inizi di questo percorso C'è ancora tempo per una domanda se qualcun altro vuole farne, prego Salve, buongiorno io volevo solo sapere volevo un parere e cioè qui stiamo parlando essenzialmente di cyber security ma stiamo parlando anche di terzo settore il terzo settore ha essenzialmente delle problematiche maggiori rispetto alla pubblica impresa cioè all'impresa in generale perché ha normalmente fondi un po' ristretti però ha una elevata traffico di dati sensibili ad esempio basta pensare agli associati di un'associazione qual è secondo voi l'approccio migliore per poter mantenere i costi e poter fare un'ottima cyber security nel terzo settore Diamo una risposta e poi le prometto che la sua la fa comune Allora, lei ha sollevato un'obiezione molto fondata e anche molto ragionevole il problema vostro scusate mi permetto è proprio questo voi avete in pancia dei dati sensibilissimi ormai non esiste più la distinzione tra dati sensibili un dato è un dato e come tale va protetto ma vi scontrate con il budget che bisogna anche avere dei dati di realtà Allora, intanto una cosa fondamentale il GDPR e con lui il garante fanno azioni di buon senso per cui questi numeri un po' terroristici che io do 2%, 4%, 20 milioni eccetera parliamo di big tech e di grosse imprese se voi doveste puntare le vostre fish su un'unica cosa io vi direi intanto appunto grazie alla fondazione CRT approfittate di questo assolutamente e poi formazione la formazione personale cioè veramente se io non avessi proprio non sapessi dove sbattere la testa e dovessi puntare su una sola cosa punterei sulla formazione personale un piccolo decalogo poi avvocato ci dice se c'è già così lo condividiamo prego buongiorno buongiorno si 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 sente meno male noi siamo un'associazione che si occupa di musica ci chiamiamo Nuovo Antidogma Musica e siamo partiti con un sistema informatico basato su Mac perché è un po' endemico per chi si occupa di musica usare Mac qualche anno fa correva voce ecco io ho la domanda prego scusi ho finito scusi correva voce che i sistemi Mac fossero meno attaccabili dei sistemi Windows eccetera volevo sapere se questa cosa è come dobbiamo rinnovare i sistemi e i costi cambiano ovviamente perché Mac è più caro volevo sapere se per caso questo questo discorso ha ancora un senso oppure se non ne ha più qual è la sua esperienza avvocato? allora anche qua scusate ma qualcuno lo doveva dire tocca tocca sempre a me far la parte della cattiva è vero qualche anno fa correva questa voce è una voce a cui abbiamo creduto tutti fondata fondamentalmente su due caratteristiche essenziali del Mac la prima è che era infinitamente meno diffuso di Windows e quindi sui numeri quindi più sicuro è chiaro più sicuro ma a livello statistico è ovvio non so è come se circolassero 10, 500 è una panda è ovvio che è più facile che rubino la 500 rispetto alla panda perché ce ne sono di più e il secondo motivo è che Mac ha un sistema molto chiuso è molto come dire autarchico è chiuso nella sua bolle quindi tendenzialmente non lascia scaricare app che non vengono da me comunque molto difficilmente oggi forse poi Nino se vuoi dare qualche ma oggi questa leggenda non è più valida perché oggi intanto il Mac ha una diffusione molto più ampia rispetto ad una volta e poi purtroppo il pericolo viaggia sul web viaggia sulla rete qualsiasi device collegato alla rete è potenzialmente esposto i vi compresi i telefonini al telefonino non pensa mai nessuno per alzata di mano quanti hanno un antivirus sul telefonino? vabbè spero che la mia azienda me l'abbia pensavo peggio devo dire pensavo peggio però al telefonino non pensa mai nessuno perché il telefono è un telefono il telefono è un computer quindi per rispondere alla domanda quindi l'attenzione della sicurezza si è spostata dai sistemi operativi all'accesso alla rete assolutamente quindi siamo tutti esposti assolutamente grazie davvero avvocato grazie a voi e grazie a tutti grazie della sua aperizia della sua attenzione dei suoi consigli noi aspettiamo il decalogo anche su tiktok la seguiamo ma un decalogo lo vogliamo per le nostre organizzazioni magari più piccole Nino D'Amico lo abbiamo evocato prego Chief Technology Officer di HRC che è la società partner di Fondazione CRT in questo percorso responsabile del progetto Cyberbrain e ci spiega quali sono gli strumenti concreti cosa vi siete inventati per mettere a disposizione di questa platea insomma che vuole essere di 400 enti uno strumento per difendersi dagli attacchi per tutelare i dati sensibili perché è compito delle organizzazioni tutelarli per lavorare in sicurezza prego la lascio buongiorno e bentrovati beh innanzitutto prima di iniziare rinnovo anch'io i ringraziamenti a Fondazione CRT perché ha avuto la lungimiranza di capire quanto sia importante la Cyber Security e di investire che cosa non banale né scontata fare un investimento economico per mettere in protezione il terzo settore e poi vorrei anche ringraziare voi che siete qui oggi perché vuol dire che avete avuto la sensibilità di capire che Cyber Security è un tema importante per cui permettetemi di chiedervi di farvi un applauso perché siete qui perché è importante quindi grazie chi è HRC Cyberbrain è una realtà torinese abbiamo due sedi una nella zona gran madre un'altra che ha sede proprio qui in OGR OGR Tech il lab di co-working tecnologico di OGR con il progetto Cyberbrain io mi occupo di tecnologie in OGR e sono il responsabile di questo progetto dedicato alla Cyber Security progetto che in qualche modo è nato diciamo come idea già tantissimi anni fa come vedete noi ormai da vent'anni ci occupiamo di Cyber Security dal 2003 e in questo tempo abbiamo accumulato conoscenze esperienze certificazioni e soprattutto abbiamo stretto delle collaborazioni delle partnership importanti con i principali brand di mercato i principali leader di mercato in Cyber Security poi nel 2019 abbiamo deciso di dedicare queste conoscenze queste esperienze in una realtà verticale sulla Cyber Security che abbiamo chiamato Cyberbrain nel 2020 abbiamo implementato una tecnologia che si chiama iperconvergente all'interno del datacenter di OGR qui in OGR c'è un datacenter certificato tier 3 che è uno dei massimi livelli di certificazione di datacenter e così via fino ad oggi siamo qui appunto a parlare di sicurezza informatica la mission di Cyberbrain qual è? mettere a disposizione strumenti qui rispondo anche un po' a quello che chiedeva prima il partecipante cioè che cosa può fare si può fare per il terzo settore che tecnologie utilizzare a parte che ribadisco quanto detto l'avvocato di Giacomo importante la formazione ma lo vedremo anche più avanti noi quello che abbiamo fatto è prendere tecnologie che normalmente sono appannaggio tecnologie e servizi che normalmente sono appannaggio di grandi realtà di aziende enterprise per una questione di costi e le mettiamo a disposizione anche per le piccole e medie realtà del territorio lo stesso livello di protezione quindi di un'azienda enterprise può averlo anche una piccola realtà e l'altra cosa fondamentale che stiamo facendo anche oggi è fare informazione e formazione proprio perché è importante creare consapevolezza questa parola che in inglese si traduce awareness ricorrerà spesso durante il mio intervento è importante avere consapevolezza di quali sono i rischi e di come ci si protegge ma cos'è la cyber security qui a scanso di equivoci leggiamo insieme la definizione di wikipedia la sicurezza delle informazioni il processo di protezione dei dati e dei sistemi informativi che elaborano archiviano e trasmettono i dati contro l'accesso illegale quindi la parola qui fondamentale è processo la cyber security non è qualcosa che compro un prodotto lo installo e ho risolto i miei problemi è un processo che dura negli anni che deve essere permanente e che viene migliorato di volta in volta perché migliorano anche le tipologie di attacco ogni anno ci sono milioni di dati che circolano sul web e questi dati sono oggetto di attacco come abbiamo visto e sentito prima il dato è il vero petrolio del futuro anzi direi che è il petrolio attuale questo cito anch'io il rapporto Clusit questo è un aggiornamento rispetto ai dati visti prima ma sostanzialmente il trend è lo stesso perché è l'aggiornamento del primo semestre 2023 il Clusit è un organismo nazionale che si occupa mette insieme realtà private e realtà pubbliche tra cui fondamentale l'apporto della Polizia Postale che fornisce dati al Clusit ogni anno sullo stato diciamo di salute dei sistemi informativi all'interno del nostro paese e le mette in confronto con il resto del mondo come vedete i dati sono preoccupanti cioè è una linea che tende a salire e purtroppo questo è un altro dato interessante sono il numero di attacchi gravi gravi e denunciati segnalati che ci sono stati a livello globale ecco sul numero globale più del 10% sono attacchi che avvengono in Italia ma perché questo? perché i dati italiani siano più interessanti di altri paesi? evidentemente no e perché siamo più vulnerabili abbiamo un investimento che è nettamente inferiore rispetto ad altri paesi in sicurezza informatica perché siamo meno consapevoli torna la parola di prima su quale sia il rischio vi do un dato indicativamente stiamo parlando dello 0,1% del PIL annuo investito in Italia i nostri cugini europei come la Germania e la Francia investono il doppio gli Stati Uniti il triplo in sicurezza informatica è ovvio che se sono un ladro vado a rubare nella casa che è meno protetta il 67% delle aziende ha dichiarato che rispetto all'anno precedente ha subito un aumento degli attacchi e il 14% e come abbiamo visto prima non tutti purtroppo lo dichiarano e denunciano gli attacchi di quelli che l'hanno dichiarato il 14% ha avuto conseguenze conseguenze gravi a volte queste conseguenze portano anche la chiusura di aziende aziende che subiscono un blocco della produzione per settimane se non mesi spesso non sono in grado poi di affrontare queste conseguenze adesso vedremo diciamo i punti critici di un'infrastruttura chiaramente sicuramente tutto ciò che è dispositivo informatico hardware software fondamentale la gestione del dato è fondamentale come ci ha detto prima il dottor Bacco è fondamentale quando subiamo un attacco avere la certezza che comunque se questo attacco va a buon fine il nostro dato non sia perso irrimediabilmente e per sempre quindi abbiamo comunque una soluzione di backup e di disaster recovery e di business continuity che ci consenta di ripristinare il dato senza dover pagare i famigerati riscatti e la consapevolezza torna la parola si mi riallaccio a quanto detto da chi mi ha proceduto è fondamentale essere consapevoli e quindi formarsi e prepararsi a fronteggiare gli attacchi torno appunto su un argomento di cui abbiamo già detto quali sono nello specifico i rischi per realtà del terzo settore sicuramente i dati ce l'ha detto all'inizio del suo intervento il segretario generale di fondazione CRT anche un'associazione una semplice associazione calcistica ha dei dati molti dati sensibili e questi dati sono importantissimi per chi poi li rivende al mercato nero nel dark web e quindi è importante proteggerli c'è una responsabilità che a volte è superiore a quella di aziende commerciali di grandi dimensioni il problema è che le realtà del terzo settore hanno una scarsa consapevolezza e per motivi strutturali perché sono piccole realtà non hanno i fondi necessari per proteggersi e non hanno spesso l'attenzione per formare il personale sul rischio cyber c'è anche un tema che cito qui al punto 5 che è legato a motivazioni caratteri ideologico e politico le aziende del terzo settore spesso vengono attaccate da attivisti proprio a scopo politico o ideologico per cui il claim della giornata è sei sicuro come ha detto l'avvocato di Giacomo non si tratta del se ma del quando prima o poi tutti saremo attaccati quindi quello che è importante è essere pronti prepararsi in caso di attacco a fronteggiarlo e se per caso l'attacco andasse a buon fine avere la soluzione diciamo per tornare operativi questa vignetta che magari vi sarebbe già capitato di vedere sul web è molto simpatica perché abbiamo un fantomatico match tra a quell'angolo tutti i sistemi di protezione firewall encryption antivirus chi più ne ha più ne metta e all'altro angolo abbiamo Dave che Dave è il fattore umano siamo noi stessi e si dice spesso che il problema di un sistema informatico si trova tra il monitor e la sedia e perché lì c'è proprio seduto Dave ma dov'è che Dave fa grandi disastri? è quando naviga sul web principalmente come accennava prima l'avvocato di Giacomo il web non è semplicemente quello che noi vediamo vi sarà capitato di vedere una rappresentazione del web con la forma di un iceberg dove la punta visibile quello che si chiama surface web del web quello che noi utilizziamo normalmente con i motori di ricerca con il browser che navighiamo sul pc o sul telefonino è la parte visibile ma è solo la punta dell'iceberg tutto la parte la gran parte dei dati che ci sono sul web in realtà è una parte sommersa è quello che viene definito il deep web del deep web fanno parte anche semplicemente le nostre reti aziendali sono reti private non accessibili normalmente da internet ma accessibili comunque in qualche misura perché collegati ad una rete e di questo deep web una sottoparte è il dark web appunto l'area criminale del web che tramite strumenti specifici può essere acceduta e dove vengono scambiate informazioni e dati vengono vendute al mercato nero i nostri dati adesso facciamo una rapida carrellata di quelli che sono alcuni punti di attenzione il primo sono le password le famigerate password sono la croce di tutti gli utenti nonostante io mi occupi di sicurezza informatica da anni sono un problema anche per me dover gestire le password dovermi ricordare e avere sempre password diverse ma è il punto centrale è la chiave di accesso ai sistemi quindi è fondamentale essere attenti quando si utilizzano le password quando si creano delle password adesso vi vorrei far vedere un piccolo video per farvi per mostrarvi come sia facile comunque carpire informazioni qui rientriamo nel tema dell'ingegneria sociale o social engineering di cui si è già parlato precedentemente come sia facile carpire informazioni relative alle password alle persone anche in situazioni in cui normalmente uno non darebbe mai queste informazioni ma se messi in un certo contesto veniamo tratti facilmente in inganno vediamo adesso questo video tratto dal Jimmy Kimmel show è un diciamo uno show molto noto negli Stati Uniti e Jimmy Kimmel qualcuno lo ricorderà perché ha presentato la notte di Oscar quest'anno che ha parlato del mondo nel primo il primo Il mio nome è il mio nome e il mio gradatore. Oh, che tipo di doggio? I have a Chihuahua Papillon. E qual'è il nome? Jameson. E qual'è il nome? I went to school in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. When did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Ok. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie61295. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Um, um, let me think. Ok, one is Tel Aviv. Yeah. Four, six, eight. And then Israel. It's only three. But it's, you know, for me it's strong enough. Ireland, one, two, three, four. Gemma, one, two, three. Spell G-E-M-M-A. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. So like... Like what's a good Italian password? Uh, my grandma's name. What's your grandma's name? Uh, Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is they learned their terrible lesson. Eh sì, una tremenda lezione. La lezione è non rivelate mai la vostra password a nessuno e se per caso dovesse capitare cambiatela immediatamente dopo. Qualche consiglio per le password sicure, già ne aveva parlato il dottor Bacco. Sicuramente non quella a sinistra, i sistemi di brute force attack che dicevamo prima hanno anche dei dizionari per velocizzare gli attacchi con una serie di password preconfigurate. Quelle sono in cima alla lista, ovviamente. Password sicure devono avere almeno 10-12 caratteri, dei caratteri con maiuscole e minuscole, dei numeri e anche dei caratteri speciali. Il problema è che poi ce le dobbiamo ricordare perché non dobbiamo usare la stessa password per tutti gli account perché diciamo trovata una volta poi abbiamo la chiave per accedere a tutto il resto. E poi non è detto che la password venga diciamo catturata da noi perché magari il sito su cui ci siamo registrati ha subito un dato breach, hanno rubato il database delle credenziali e quindi ci sono lì il nostro non utente password. Se quella password la usiamo anche per altro è facile quindi che abbiamo dato accesso a tutti i nostri sistemi. Quindi ogni password diversa, ormai utilizziamo decine di sistemi diversi, come facciamo a ricordarcele? Innanzitutto ci sono dei software anche gratuiti che si possono utilizzare che sono delle sorte di cassaforti delle password dove io ho una sola password di accesso a questo sistema e dentro metto il resto delle mie credenziali. Un altro metodo è quello di utilizzare qualcosa che ci venga facile da ricordare, per esempio quella frase lì nel 2024 vado al mare, punto esclamativo, con la N iniziale maiuscola, è una password sufficientemente sicura, nel senso che rispetta i criteri di complessità che abbiamo detto prima, è magari anche facile da ricordare per noi. Un altro metodo è quello che ci insegna la vignetta, tesoro qual'è la password del nostro anniversario? L'ha fatto apposta, noi maschietti ci dimentichiamo sempre queste date. Parliamo di social engineering perché l'ingegnere sociale è uno dei metodi principali oggi di attacco, quindi io attacco le persone per attaccare e poi entrare nei sistemi. Vi faccio vedere un altro video proprio di una di queste metodologie che si chiama phishing, che è sostanzialmente il phishing telefonico, cioè l'adescamento telefonico, dove vi racconto brevemente quello che succede perché il video abbiamo messo dei sottotitoli tradotti, però diventa un po' difficile da seguire, però fondamentalmente c'è un giornalista che si reca alla più importante conferenza mondiale negli Stati Uniti sull'hacking e chiede ad un hacker di hackerare il proprio account dell'operatore mobile, del suo operatore mobile. Questa persona utilizzerà la tecnica di phishing e utilizzerà delle tecniche di social engineering legate all'urgenza della situazione, all'impitosimento e lo farà tra l'altro in maniera simpatica. Facciamo partire il video. Facciamo partire il video. Facciamo partire il video. In just 30 seconds, Jessica gets access to my personal email address. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're going to have to go on and change your password now, because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. Beh, alquanto è inquietante questo video, abbastanza. Cosa fanno, diciamo, i cybercriminali quando utilizzano tecniche di social engineering? La prima cosa è studiare il soggetto. Quella che si chiama fase di ricognizione. Si raccolgono informazioni che sono libere su internet, ad esempio sui social, informazioni che noi rilasciamo continuamente pubblicando foto o informazioni di dove ci troviamo in quel momento. Dopodiché cercano di conquistare la fiducia della persona, quindi impersonando una persona differente. Vedremo dopo che c'è stato un grande maestro di questo, che è stato già citato precedentemente dal dottor Bacco, e poi avviene l'attacco vero e proprio. Chi sono questi fantomatici hacker o cybercriminali? Io preferisco utilizzare il termine cybercriminale quando si parla di attacchi fraudolenti, perché, in realtà, in origine la parola hacker non ha una connotazione, un'accezione negativa. L'hacking è l'arte di migliorare un sistema partendo dai suoi difetti, quindi rintracciando i difetti di questo sistema cerco di migliorarlo. Quello che fa l'hacker vero è quello appunto di bucare i sistemi, non per trarne un profitto, ma per, diciamo, trovare quali sono le falle che devono essere migliorate. Però, dato che ormai comunemente si dice, quando si parla di azione criminale, si parla di hacker, è nata poi la terminologia di ethical hacker, che sono le persone che fanno anche il mio mestiere, cioè che attaccano le reti dei clienti per cercare di capire quali sono le debolezze e quindi capire poi insieme al cliente come proteggere e risolvere le falle di sicurezza. Adesso vi faccio un piccolo quiz a cui potete partecipare, tranne il dottor Bacco, e vi chiedo se conoscete, qualcuno conosce questi due personaggi, non alzate tutti la mano contemporaneamente. Tu lo sai? Vabbè, sì, tu lo sai. Il primo è Kevin Mitnick, è stato citato precedentemente dal dottor Bacco. Nomi in codice The Condor è probabilmente il più famoso hacker della storia. Queste sono due persone che non le conosciamo comunemente perché non siamo abituati a vedere i loro visi, ma sono leggende nel mondo della cyber security. Kevin Mitnick, tra le grandi gesta che ha compiuto, c'è stata la violazione alla rete della difesa del Nord America, tra l'altro episodio che ha ispirato il film War Games, che magari qualcuno che ha lo stesso colore ai miei capelli ricorderà. Kevin Mitnick, che tra l'altro è scomparso quest'anno, è stato anche condannato poi a non avvicinarsi a più di un tot da qualunque dispositivo elettronico. Perché? Perché aveva un'abilità pazzesca di usare solo il telefono e con 3-4 telefonate riuscire ad accedere a qualunque sistema. e lo faceva utilizzando quelle tecniche di social engineering, un po' il vishing che abbiamo visto prima, che racconta in maniera brillante nel suo libro appunto l'arte dell'inganno. Invece quello a destra è una gloria nostrana, anzi proprio una gloria del territorio, potremmo dire, un prodotto del nostro territorio. Ed è Raul Chiesa, nome in codice no body. Del tipo, ma chi è che ti ha attaccato la rete? Nessuno! Per fare una riminiscenza numerica. Raul Chiesa, la gesta per cui è noto soprattutto da diversi anni, è che ha violato la rete della Banca d'Italia. Però una cosa importante, né Chiesa né Mitnickam hanno mai tratto profitto da questo tipo di attacchi. sono stati dei pionieri dell'hacking perché hanno iniziato quando non esisteva neanche il web e sono poi diventati dei paladini della giustizia, sono passati diciamo dal lato buono della forza, quindi hanno collaborato con le forze dell'ordine, ad esempio Raul Chiesa continua a farlo. Mitnick ha fondato una delle più importanti agenzie di cyber security al mondo. Quelli invece che sono gli hacker cattivi, quelli che abbiamo detto chiamiamo cyber criminali, sono organizzatissimi, non sono più come normalmente pensiamo all'hacker come il ragazzino incappucciato che sta nella propria cameretta e diciamo accede da remoto a tutte le reti. Forse erano un po' così Mitnick e Chiesa, oggi non è più così. I cyber criminali sono organizzati, sono organizzati in vere e proprie realtà aziendali, strutturate, che vengono definite per questo motivo cyber gang. Sono realtà confatturati da capogiro, come diceva prima l'avvocato Di Giacomo. Qui vedete, citate alcune di queste cyber gang, queste sono quelle più attive, sono state più attive tra il 2022 e il 2023 in Italia, tra cui appunto il breach alla regione Abruzzo, la fuga di dati dalla comune di Armaditaggia e n altre. Di queste vi parlo brevemente solo di Lockbit 3. Lockbit 3 si chiama così da poco, qualche anno fa si chiamava Lockbit 2, tra l'altro perché il nome della cyber gang è lo stesso del malware che viene utilizzato, che è un ransomware appunto, quel software che cripta tutti i dati e poi chiede il riscatto. Tra l'altro sappiate che la criptazione dei dati è solo la parte finale dell'attacco. L'attacco è iniziato settimane, se non mesi prima, il cyber criminale è entrato nella rete, ha capito quali sono i dati importanti, quali sono le debolezze di quella rete, ha copiato più dati possibili, se non tutti, per poterli poi rivendere nel dark web e infine ha sferrato l'attacco per creare il danno e poi richiedere il riscatto. Lockbit 3, quando si chiamava Lockbit 2, tra le varie cose che faceva a criptare i dati, decriptava anche i database di SQL. SQL è uno dei database più famosi prodotto da Microsoft. Microsoft cosa ha fatto? Ha pubblicato, aveva trovato una falla, un baco in Lockbit 2 e aveva pubblicato un articolo dove spiegava come facilmente si poteva decriptare il database e quindi tornare in possesso dei propri dati. Cosa ha fatto Lockbit 3? Ha pubblicato un annuncio qualche giorno dopo, ringraziando Microsoft per aver segnalato la falla e che finalmente era stata risolta da Lockbit 3, quindi non ci sarebbe stata più la possibilità di decriptare il database. Tra l'altro Lockbit 3 è molto attiva nel dark web anche come recruitment, cioè fanno ricerca del personale e offrono da mille dollari a un milione di dollari agli sviluppatori che aiuteranno a migliorare il proprio sistema. Capite che se un'azienda, perché di aziende stiamo parlando, paga un milione di dollari a uno sviluppatore, immaginate qual è il volume d'affari che questa azienda riceve dall'attività criminale. Vabbè, qualche consiglio, visto che abbiamo visto che il nostro amico Dave, cioè noi stessi facciamo danni su internet, quando navighiamo nel web, qualche consiglio semplice. Tenere aggiornati, fare gli aggiornamenti, ce l'hanno già detto prima i relatori che mi hanno preceduto. Attenzione all'estensione ai plugin, quindi quando il browser vi chiede di attivare un plugin o di scaricare un'estensione particolare, evitate di farlo. Non visitiamo siti web sconosciuti, perché qualche link ci ha detto che c'è una promozione su un sito particolare. Evitiamo di scaricare file sconosciuti se non ne conosciamo esattamente la provenienza. E attenzione agli avvisi di sicurezza. Adesso tutti i siti, quantomeno i browser, ci avvisano se il sito che stiamo navigando non è sicuro perché non ha un certificato di sicurezza rilasciato da una certification authority pubblica. Quindi quando succede questo evitate di navigare su quel sito. Veniamo finalmente alla parte importante, il perché vi trovate qui. Quali sono le soluzioni che Fondazione CRT vi mette a disposizione tramite questo bando, gratuitamente, per proteggere le vostre reti. Innanzitutto, perché ci è stato ribadito più volte e ringrazio l'avvocato di Giacomo di averlo ricordato spesso, la formazione è il punto base. Abbiamo visto che il primo punto di attacco di una rete informatica, di attacco di un cybercriminale, sono gli utenti. Si stima che circa il 90% degli attacchi inizino da un errore umano, da un qualche attacco che è stato sferrato alla persona tramite un'email di phishing o tramite altre tecniche. Per cui è importante che le persone siano formate nel conoscere quali sono i pericoli e come cercare di evitarli. Anche banalmente come si fa a riconoscere un'email di phishing. Una volta era molto facile, arrivano delle email totalmente sgrammaticate e quindi si capiva che erano email fasulla. Oggi sono delle email che simulano perfettamente l'email reale. Anche perché i nostri amici artificialmente intelligenti come ChatGPT aiutano parecchio nel formulare correttamente i testi e creare testi ingannevoli. Noi mettiamo a disposizione una piattaforma di formazione, una piattaforma web, che ogni utente può utilizzare con delle piccole diciamo pillole formative su la navigazione sicura, il riconoscimento del phishing, come si fanno transazioni economiche in sicurezza su internet. Tramamente appunto queste lezioni che si possono seguire sono molto brevi e anche fatte in maniera accattivante. Ci si può formare, ci sono anche dei test intermedi dove uno può testare appunto la propria consapevolezza, il grado di consapevolezza raggiunto e c'è anche la cosiddetta appunto verifica delle competenze e c'è anche la possibilità di fare quelle campagne di phishing simulato, di cui ci parlavano sia l'Avvocato Di Giacomo che il Dottor Bacco, cioè simulare delle campagne phishing per vedere se gli utenti effettivamente nel tempo stanno acquisendo consapevolezza e stanno migliorando il loro grado di resilienza agli attacchi. Un altro prodotto e servizio che mettiamo a disposizione è l'MDR. L'MDR è una sigla che sta per Managed Detection Response, sarebbe sostanzialmente la gestione della rilevazione e della risposta. Che cos'è? È un'evoluzione di quello che conoscete normalmente come antivirus. Purtroppo gli antivirus non sono più sufficienti a proteggere le reti, servono dei prodotti evoluti, dei prodotti più intelligenti, dei prodotti che hanno a bordo algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di riconoscere anche minacce non note da come si comportano sul nostro dispositivo. Ma il valore aggiunto di questa soluzione è che è gestita, cioè le informazioni che l'antivirus raccoglie sul computer, anche informazioni di tipo comportamentale, cioè quali connessioni vengono effettuate da altre macchine all'interno della rete, quale tipologia di file viene inviato al di fuori del computer, queste informazioni vengono raccolte e inviate ad un centro di controllo che si chiama SOC, Security Operations Center. Nel fattispecie si trova qui in OGR, il SOC che mettiamo a disposizione con l'MDR, ed è presidiato da risorse sistemistiche certificate in cyber security. Sono degli analisti di cyber security che sono in grado di capire, ed è qui il valore aggiunto, mettiamo insieme all'intelligenza artificiale che abbiamo sul computer, l'intelligenza umana che controlla dalla control room che cosa avviene sulle vostre macchine. Quando parlo di dispositivi di macchine mi riferisco anche non solo ai PC Windows, non solo ai server, anche alle macchine Mac e anche ai dispositivi mobili. Quindi ogni licenza MDR vi dà la possibilità di mettere in protezione anche due dispositivi mobili, due smartphone o Android o iOS. L'ultima parte è la protezione del dato. Come lo facciamo? Abbiamo sviluppato noi come HRC una soluzione software che si chiama CyberDrive. È una piattaforma che consente di scambiare e salvare file in cloud in modalità totalmente sicura. Cioè è una piattaforma, come ce ne sono tante che magari già utilizzate, ma che sono state sviluppate appositamente per la sicurezza, per la sicurezza del dato. La sicurezza su come il dato viene trasferito nel cloud, su come il dato viene salvaguardato all'interno del cloud e su come il dato viene in maniera sicura condiviso con terzi. Io avrò sempre tramite questa piattaforma la tracciabilità di quali informazioni ho scambiato con chi, che cosa hanno fatto le persone con cui ho condiviso questo file, cosa hanno fatto su quel file specifico. E soprattutto ho la certezza che questo file è all'interno di una cassaforte sicura, che è qui in OGR nel data center di cui vi parlavo prima, che è stato equipaggiato con una tecnologia che la rende totalmente resiliente ad attacchi di tipo ransomware. Quindi immaginiamo che comunque un attacco ransomware vada a buon fine sulla vostra rete, vi cripterà tutti i dati, ma il vostro dato inattaccabile al ransomware sarà conservato qui in OGR. E per rilacciarmi a una cosa che diceva prima il dottor Bacco, è fondamentale sapere in quanto tempo rientro in possesso del mio dato. Questo sistema consente in massimo 15 minuti di rientrare in possesso di qualunque dimensione del dato, da un gigabyte a 10 terabyte. E questo è un aspetto fondamentale e molto importante. CyberDrive lo potete utilizzare anche come backup del vostro PC, nel senso che sul PC potete definire delle cartelle da sincronizzare e backupare con CyberDrive, che diciamo in maniera automatica trasferiscono i dati, tra l'altro criptati, nella data center OGR all'interno di CyberDrive. Data center che noi diciamo tre volte sicuro perché è un data center che risponde pienamente al GDPR, perché si trova in Italia, è di proprietà di un'azienda italiana, OGR è gestito da un'azienda italiana che è HRC, è equipaggiato con tecnologia resiliente al ransomware ed è un data center tier 3 che garantisce continuità di servizio a quanto salvato all'interno. Quindi CyberDrive, come dicevo, la cosa importante è che è proprio un software che si dice ha la cyber security by design. È stato sviluppato ogni riga di codice per la sicurezza. È un po', potrei dire, una cassaforte scostruita, non posso dire costruita dai ladri, perché noi non facciamo attività criminale, però conosciamo benissimo quali sono le tecniche utilizzate dai cyber criminali. E questo è il bundle che poi troverete a disposizione per l'accesso alle licenze, quindi avrete la possibilità di un pacchetto A, il realtivo alla formazione, che vi dà accesso fino a 4 utenti da formare all'interno della vostra realtà, e un pacchetto B dove viene messa a disposizione la tecnologia. Quindi l'MDR, l'antivirus intelligente gestito dal SOC, e una licenza di CyberDrive che, come vedete, è fino a 20 giga a utente. Questo tutto per 12 mesi. Bene, io ho concluso, sono sforato pochissimo. Siamo arrivati al nostro orario di chiusura, quindi temo che dovremo sacrificare la sessione delle domande, però io sarei curiosa poi della vita da hacker, del dottor D'Amico, ma magari questo lo facciamo poi una prossima, un prossimo appuntamento. Voglio darvi però delle comunicazioni importanti di tipo concreto. Le aziende interessate a questo progetto potranno, lo dicevamo, attraverso le modalità del click day accedere a questi aiuti, potranno scaricare gratuitamente i pacchetti informatici oppure le sessioni di formazione. L'appuntamento è fissato per il 6 dicembre dalle 14 alle 18. All'uscita di questo evento vi consegneranno una portacarte dove troverete un QR code che rimanda ad una pagina descrittiva di queste soluzioni messe a disposizione da Fondazione CRT. Via mail invece dovreste aver già ricevuto un codice o un link per partecipare poi concretamente al click day la prossima settimana. Però se questo non fosse accaduto, se ci fossero dei dubbi, delle cose da chiedere, potete scrivere una mail a questo indirizzo che dovrebbe essere anche a un certo punto proiettato. Lo vedete lì sotto, Fondazione CRT, trattino basso cyber security, chioccio la fondazione crt.it. Facciamo al volo una domanda, se c'è, che mi sento in colpa a toglierle le domande. Se poi avete delle curiosità, io sono qui, vi potete avvicinare senza problemi. Ecco, così le fanno saltare il pranzo, però direi che la nostra sessione full è stata davvero utile, vi ringrazio tutti, buon lavoro e a presto. Grazie a tutti.